Martedì è una partita fondamentale, ci mancano due gare, una con la Dinamo e quella con lo Shakhtar. Facendo una vittoria siamo matematici nei due posti e sarebbe bello già vincere martedì, però sicuramente sarà una partita tosta, impegnativa contro una squadra forte. Ma credo che ce la giocheremo alla pari. La prima partita fatta con loro era la prima di Youth League, era una partita difficile anche perché non avevamo ancora esperienza internazionale. Ora con quattro partite alle spalle siamo cresciuti, siamo migliorati. Avevamo fatto bene anche all'andata, poi c'era girata male e non eravamo riusciti a pareggiare. Io credo che martedì dovremmo fare una grande partita perché giochiamo contro una squadra forte e tosta. Ma come dicevo prima credo che siamo pronti. La Dinamo è una squadra molto fisica, ha anche giocatori di qualità. Noi dovremmo essere bravi a metterla sul piano del gioco, a sfruttare la nostra tecnica e i nostri giocatori di maggior qualità. Poi dopo sarà una partita equilibrata dove la differenza la farà al dettaglio.